Carlotta e Sofia, protagoniste del film L'Arminuta, oggi siete in consiglio regionale, un ulteriore riconoscimento per la vostra bravura. Ve lo aspettavate questo premio? No. No, no. Siete contente comunque? Sì, 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 sì. Molto. Allora, voi è la prima volta che fate le attrici in questo film o avete avuto già altre esperienze? Io è la prima volta e spero di continuare. Tu? Anche per me è stata la prima volta e spero di avere un modo di avere altre opportunità come questa. Ma parliamo un minuto proprio del film, cioè L'Arminuta, questo titolo un po' strano. Ci spiegate che cosa significa? Significa la ritornata in dialetto abruzzese, perché appunto L'Arminuta viene restituita dalla famiglia adottiva. Tu invece dici, per chi ancora non ha visto questo film, cosa c'è di bello? Perché dovrebbero vedere questo film tutti i cittadini italiani, abruzzesi? Io penso che bisogna vedere questo film perché racconta una realtà che prima era molto frequente e quindi penso che possa aprire anche gli occhi e far rendere conto, soprattutto magari ai ragazzi, di come era la vita prima e di quanto siamo fortunati adesso. C'è invece un attore o un'attrice che conoscete col quale o con la quale vi piacerebbe lavorare un giorno? Io non li conosco, non conosco nessuno in realtà. Io ne conosco un bel po' perché mi appassionò molto vedere film, serie tv e soprattutto anche dopo questa esperienza è stato diverso guardarli rispetto a prima, però ce ne sono tanti di attori che mi piacciono, non riesco a sceglierne solo uno.